Intervenire al più presto sul torrente Arzilla prima che sia troppo tardi. I residenti della zona del ponte Mimmo a Fano sono preoccupati sulla situazione in cui versa il corso d'acqua, quasi irriconoscibile per la tanta vegetazione cresciuta negli ultimi tempi. A farsi portavoce è Sergio Carboni, 83 anni vissuti proprio a ridosso del torrente, che lancia un appello a più voci prima che succeda l'irreparabile, proprio come è successo recentemente, nell'entroterra pesarese e anconetano. L'ultima volta che sono venuti a ripulire il letto del torrente, aggiunto Carboni, è stato oltre dieci anni fa ma poi non si è visto più nessuno. Con le forti piogge delle settimane scorse molti alberi sono caduti sul sentiero, mentre altri sono ancora in bilico sia sul corso d'acqua che anche sui cavi delle linee telefoniche. Una situazione pericolosa per chi vive o frequenta questa zona. Innanzitutto devo ringraziare Fano TV di questo intervento. Purtroppo negli ultimi tempi si è verificato quello che pensavamo, cioè ogni volta che c'è un temporale e che piove le piante secolari che sono lungo il torrente azile cadono, quindi è un problema grosso. Io penso che non dipende da chi gli è assessorato di oggi, sono 50 anni che nessuno si vede ripulire l'Arzilla. Il consorzio di Bonifica qualche anno fa è venuto per me, ha fatto qualche lavoro, poi non avendo i fondi ha smesso, quindi dopo quegli anni è peggiorata la situazione perché una volta ripulito l'argine, quando è ripulito la vegetazione cresce ancora di più. In particolare quest'anno ho visto i due mesi di secca che non c'era acqua, la vegetazione sembrava una foresta proprio. Ora, visto quello che è accaduto a Cantiano, siamo presi un po' dalla paura perché sono sicuro che se piove un temporale o una bomba d'acqua, l'acqua arriva nelle nostre case di sicuro, non nei campi, i campi ce ne sono, ma se arrivano nei locali il problema è come nell'81, mi sembra, che siamo scappati via dalla gran pioggia, dal gran temporale e dalla grande alluvione, che abbiamo avuto paura. Ora, se piove di nuovo, sono certo che succede il peggio, quindi un po' di buona volontà, non so di chi dipende dalla regione, di dare una ripulitina al Torrente Azilla. Più a mare, invece, alcuni reporter di strada ci hanno segnalato la situazione in cui versano i ponti sul fiume Metauro, tra cui anche quello ferroviario. Il forte maltempo delle scorse settimane ha provocato un accumulo di tronchi e rami che si sono incastrati tra le colonne, bloccando il normale deflusso del corso d'acqua verso il mare. Una situazione, si legge nel messaggio che necessita quanto prima di una sistemazione in vista di altre possibili emergenze meteo.